Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Per chi di voi non mi conoscesse, sono Beatrice, una mamma di un bambino di due anni e di uno che sta per arrivare presto tra noi. Oltre a questo, sono farmacista e naturopata. In questo video vi voglio spiegare come mai, da mamma, farmacista e naturopata, secondo me il kit della Kids Collection di Duterra è qualcosa che non può assolutamente mancare nelle case di chi ha bimbi da neonati a preadolescenti e adolescenti eccetera. Allora, cominciamo con il dire che è una raccolta di oli che si possono anche acquistare singolarmente, ma ovviamente presi nella collezione ci sono ovviamente dei risparmi aggiuntivi e poi mandano questa pochette molto carina, questo raccoglitore. Esploriamola insieme. Intanto vi voglio parlare del perché gli oli essenziali sono veramente molto molto efficaci sui bambini. Il fatto è che gli oli essenziali, come ho spiegato anche in tanti altri video, agiscono su tre livelli. Vanno ad agire sul piano fisico, quindi anche proprio sintomatologico di patologie, di problematiche specifiche e particolari, quindi possono essere un'ottima alternativa a magari rimedi di sintesi. Vanno ad agire sul piano psicologico e mentale perché vanno direttamente a comunicare con il sistema limbico e quindi con tutte le nostre emozioni, sensazioni, comportamenti eccetera. e vanno anche ad agire sul piano energetico. E questo è molto interessante perché nei bambini, dove non si ha spesso e volentieri la consapevolezza di l'efficacia di un rimedio, i bimbi non lo sanno, quindi non c'è questo effetto placebo, i rimedi alternativi, naturali, eccetera, sono estremamente efficaci, come anche sugli animali. E proprio questo perché gli animali e i bambini piccoli sono più puri energeticamente. E questi oli qui, in particolare gli oli essenziali di doverra, che sono i più puri ed energeticamente validi in assoluto, ne abbiamo testati tantissimi, vanno proprio ad interagire in questo senso. Quindi avere comunque un set di oli, che poi in realtà sono soltanto sette, come vedete, che vanno ad agire su tantissimi fronti, sia emozionali che spirituali che fisici, per i bambini è qualcosa che sinceramente cambia la vita. Perché si riduce drasticamente l'uso di tanti altri interventi non necessari, o comunque di approccio sintetico o più invasivo. E generalmente poi i bimbi adorano gli oli, se li mettono da soli. Già il mio bambino piccolino, che già prima di due anni si prendeva la boccetta e se la metteva addosso, gli piaceva molto, cambiava davvero la sua espressione da così a così. quando stava poco bene o quando aveva bisogno di usare l'olio, era il primo a volerlo. Quindi cominciamo a vederli uno alla volta. Allora, voglio cominciare con Resquare. Resquare, come dice la parola stessa, è il rimedio per quando ci si fa male, per la bua. È l'equivalente del Deep Blue, per noi adulti, dei bambini. Quindi qualunque tipo di trauma, dalla botta, dal livido, dall'escoriazione, dal sono caduto, eccetera, Resquare è molto valido. Si può applicare direttamente, perché come tutti gli oli della Kids Collection è in formato roll-on, già diluito. Quindi si può applicare senza nessun problema sulla pelle. Basta che non sia ovviamente una ferita aperta. Nel caso di ferite aperte si può mettere intorno. Aiuta comunque la rimarginazione delle ferite, aiuta la circolarizzazione, aiuta a sentire meno dolore. E ovviamente ha anche un aspetto emozionale importante, perché aiuta a superare anche la paura dell'incidente o comunque del problema che è stato. Tante volte i bambini vengono da noi, anche se non si sono fatti niente, perché vogliono che gli diamo un bacino sulla bua o una cosa così. Mettere quest'olio qui è decisamente molto bello anche per loro, perché si sentono molto coccolati e rassicurati. Questo è un effetto proprio dato anche dalle componenti di questa miscela stessa. E questa è una. Passiamo poi a Brave. Brave vuol dire coraggioso in inglese, quindi questa è la miscela del coraggio. E penso che in un periodo storico come quello che stiamo vivendo adesso, pieno di incertezze, pieno di confusione anche a livello sociale, eccetera, poter avere un olio del coraggio anche per i bambini che devono tornare in classe, che devono affrontare tante sfide quotidianamente, che devono affrontare tanti problemi anche legati alla crescita o tante prove che gli si richiede. E avere comunque la miscela del coraggio da mettersi sui polsi, da annusare, da mettere sulla pancina, sotto i piedi, è veramente qualcosa che li aiuta a avere più fiducia in loro stessi, più coraggio, più motivazione. È un po' il nostro, se vogliamo, il motivate o il cheer, le miscele emozionali motivanti che abbiamo anche noi adulti. E questa è proprio specifica per i bimbi che ovviamente la crescita mette molte prove davanti. Andando avanti, c'è una miscela che mi piace moltissimo, che è Steady. Steady è l'equivalente per bambini di Balance, quindi una miscela radicante, una miscela che aiuta la concentrazione, che aiuta a sentirsi meno stressati, meno oppressi dal peso di tante situazioni. Quindi io la metto per esempio al mio bimbo quando lo vedo super agitato, smanioso, o comunque che ha, non lo so, ha quello stato di agitazione, confusione, nervosismo, magari è stata una giornata in cui ha viaggiato tanto, è stato un po' sballottato da tante situazioni. Questa è una miscela proprio calmante, radicante, anti-stress, che aiuta a ritrovare se stesso, il proprio centro, il proprio equilibrio. Quindi veramente è una miscela incredibile e la uso anche molto su me stessa, perché ha effetto ovviamente anche sugli adulti. Finker, dunque Finker ovviamente è una miscela che induce, che aiuta la concentrazione, la presenza mentale, quindi per tutte le prove mentali che richiedono attenzione, che richiedono concentrazione, quindi per esempio per tutti i bambini che devono andare a scuola, per lo studio, è fantastica da metterla sulle tempie, sul collo, sul cuore, per aiutare proprio la presenza mentale. Tante volte da farmacista mi sconvolge il fatto che non ci siano molte alternative naturali consigliate dai medici prima di provare qualcosa di meno forte di tanti farmaci che si danno per l'attenzione. Si fa molto presto a bollare i bambini che hanno iperattività, problemi di concentrazione, eccetera. Magari hanno soltanto bisogno di radicarsi, concentrarsi, capire quello che stanno facendo con calma e presenza, appunto. Quindi Fincher sicuramente è qualcosa che non può mancare nei bimbi che devono usare tanto il cervello. Dunque, Tamer. Allora, Tamer è una delle mie preferite, perché Tamer è la miscela digestiva, è l'equivalente di Zengest per noi adulti. Dunque, sin dai bambini, appunto, proprio neonati, che hanno le coliche, che hanno riflusso, che hanno indigestione o stitichezza, tutti i problemi digestivi, applicare un po' sul pancino questa miscela risolve tutto all'istante. È incredibile come questi oli vadano a risolvere sia proprio il problema alla base, cioè magari appunto c'è un po' di congestione, indigestione, eccetera, che ha anche magari l'aspetto energetico, emozionale, il lasciare andare, il comprendere, no? L'elaborare mentalmente, che sono funzioni ovviamente che noi pensiamo avvengano tutte nella mente, ma in realtà c'è una comunicazione molto forte tra intestino e testa. Quindi questo va proprio su tutti i problemi digestivi e non solo. Penso che con il mio neonato sarà sempre appresso, perché ovviamente lo userò per se avrà dei problemi i primi tempi con coliche, eccetera. Stronger. Allora, Stronger mi sono riservata gli ultimi due che preferisco alla fine, probabilmente. Stronger è per le difese immunitarie, per i bambini è long guard. Quindi il mio bimbo ricomincerà a breve l'asilo e quindi gli metterò Stronger sotto i piedini tutte le volte che esce di casa, perché comunque rafforzerà le sue difese e combatterà tutte le varie minacce ambientali, rendendolo più forte anche da un punto di vista mentale, non solo di sistema immunitario. Quindi ha gli stessi benefici del long guard e lo userò tantissimo. E il dulcis in fondo, Calmer. Signori, Calmer a me sta cambiando la vita, perché il mio bimbo ha sempre avuto problemi di addormentamento, di sonno, non vuole mai lasciare andare la presa, è sempre super attivo, a volte anche agitato, prima di andare a dormire. E invece poter avere un olio che lo applico durante magari la messa del pigiamino, la messa del pannolino della notte, prima appunto di lasciarlo andare ai sogni, questo lo aiuta davvero tanto. E poi anche un po' il suo ritualino, quando gli dico mettiamo l'olio della nanna, lui se lo prende, se lo mette sulla testa, se lo annusa tutto, anche se sta piangendo, si calma all'istante. E si può mettere ovviamente anche sui neonati. Sui neonati è sempre meglio metterlo sulla schiena, fargli dei massaggi dove non può mettersi le mani in bocca, e quindi non può ingerirlo, perché ovviamente sono tutti pensati per uso topico. E' un po' il serenity di noi adulti. E devo dire che con il mio bimbo ha funzionato alla grande, perché dormiva sempre con noi nel lettone, e da quando ha cominciato ad usarlo, ha ripreso a dormire nel suo lettino, tutta la notte senza mai svegliarsi, anche 10 ore di fila, e sono veramente grata a Doterra per aver creato questa miscela, infatti rispetto alle altre, questa è quasi finita, perché non può passare serata senza metterla. A volte gliela metto anche per il pisolino del pomeriggio, perché lo aiuta veramente tantissimo a fare da sola, a lasciarsi andare, a calmarsi. E quindi, questi oli sono veramente preziosissimi, hanno un prezzo veramente bassissimo, se vogliamo parlare in termini di proporzione, rapporto qualità. È anche un kit di iscrizione, quindi non si paga, se si prende direttamente questo, se non si è clienti, la tassa di iscrizione. E tra l'altro, da settembre fino a dicembre di quest'anno, nel 2020, noi diamo dei regali extra a chi si iscrive con noi nella nostra squadra, oltre che avere chiaramente un'assistenza continua, consulenze di benessere gratuite per voi, per i vostri bimbi, per la famiglia. Quindi, se avete voglia di provare anche voi queste miscele incredibili di oli, mandatemi un messaggio, fatemi sapere se vi è piaciuto questo video, lasciandomi un commento, un mi piace, e se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al mio canale, per avere tutte le novità sugli oli, e su tutte le promozioni che facciamo. Grazie mille per avermi seguito, e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!